Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici Juventinazzi di Topland. Allora, un'analisi veloce della gara, caro Marcello. Partita di ordinaria amministrazione, un 2-0 direi tranquillo. Primo tempo dove la Juventus abbiamo giocato a ritmi molto bassi, forse potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo accelerato un pochettino i ritmi e abbiamo trovato il gol del Pipita. Sono contento per il gol di Gonzalone, ci voleva il gol del Pipita, peraltro un bel gol. Sono convinto che per il Pipita sarà un gol che è importante perché poi da qui in poi ne farà tanti altri, anche più importanti di quello che ha fatto questa sera. E' contento anche per il gol di Rubanino che ogni partita che fa è sempre più una conferma. Poi, ora siamo primi nel girone, dovevamo passare da primi e l'abbiamo fatto. Ora, beh, sicuramente diciamo che non è che forse è uno dei pochi anni della Champions dove chi arriva primo, tutto sommato, poi alla fine non è che ha chissà che vantaggi. Però io sono tranquillo, Marcello, perché in primis siamo la Juventus. Seconda cosa, penso che nessuna squadra, anche se prenderemo una top e ci dovesse incontrare a contenta, e quindi non ho paura di nessuno. Se prendiamo il Real sono convinto che lo buttiamo fuori, sono convinto che ce la giochiamo con il Bayern Monaco, con il City, con il PSG, insomma, vedremo. Poi se abbiamo un pizzico di fortuna e riusciamo a beccare semmai le Portoghese o le Verkusen, insomma, meglio ancora. Volevo chiudere l'analisi di questo mio video con una cosa a Baldissoni della Roma. Beh, caro Baldissoni, come sempre tu sei come tutti quanti gli altri. Appena c'è una cosa contro, subito a mettere il dubbio che Strootman è stato squalificato, perché comunque adesso c'è la sfida con il Milan e poi soprattutto con la Juventus. Beh, se Strootman durante il derby simula e fa quella sceneggiata, la colpa non è della Juventus ma del tuo giocatore. Quindi, come sempre, Baldissoni, Rosica, come rosicano tutti quanti gli anti-Juventini. Caro Marcello, con questo ti saluto e fino alla fine, forza Juventus!